Nessun visto richiesto o missione organizzata, lo ha detto Matteo Salvini, smentendo le varie ricostruzioni secondo cui il leader della Lega sarebbe stato pronto a volare nella capitale russa, in missione di pace da Vladimir Putin, Matteo Salvini non andrà a Mosca. La smentita arriva direttamente dal leader della Lega, dopo che erano circolate diversi ricostruzioni secondo cui, visto già alla mano, sarebbe stato pronto a partire alla volta della capitale russa per incontrare Vladimir Putin nel tentativo di spingere i negoziati di pace. Nessun visto richiesto o missione organizzata, ha messo in chiaro l'ex ministro dell'interno. Per poi aggiungere, l'obiettivo di arrivare alla pace a qualunque costo, e incontrando tutti come ribadito oggi dal Santo Padre, rimane per me e per il 74% degli italiani, dati Ipsos, una priorità. Un rinnovato accordo fra Russia, Ucraina, Europa e Stati Uniti deve essere il traguardo di tutti. Su Twitter il leader leghista ha nuovamente ringraziato Papa Francesco, definito anche nei giorni scorsi l'unico capo di Stato al mondo a parlare davvero di pace, piuttosto che di armi. Grazie a Papa Francesco, una guida che sta cercando davvero, da sempre e ad ogni costo, di arrivare alla pace, ha scritto riportando la notizia della dichiarazione del pontefice, che sarebbe pronto a incontrare il presidente russo. Parlando con i giornalisti, Salvini è tornato a parlare di armi, avvicinandosi sempre di più a quell'asse giallo-verde con Giuseppe Conte che nel 2018 lo aveva portato al governo con il Movimento 5 Stelle. A chi vanno queste armi? Non c'è un rapporto esercito-esercito. Cosa succede fra due mesi? Queste armi salvano la vita dei civili ucraini o condannano altri civili ucraini? Quando si parla di guerra occorre cautela. All'inizio, come la stragrande maggioranza degli italiani, ho detto subito sì, senza, se e senza ma, all'invio di aiuti economici, umanitari e militari per l'Ucraina. Sono passati due mesi, è servito? Inizio ad avere dei dubbi. Secondo me, adesso, Zelensky e Putin potrebbero e dovrebbero sedersi a un tavolo. Non vorrei che ci fosse qualcun altro, per altri interessi, a non volerli fare sedere al tavolo, ha commentato. Grazie.